buonasera amici vi do il benvenuto nel nostro incontro di skyway invest group intanto prima di iniziare vorrei sapere se ci sono le persone che non hanno mai sentito cosa significa skyway invest group scrivetemi per favore scrivete se voi sentite per la prima volta di skyway invest group scrivete io ok buonasera perfetto vedo che siamo più persone che già conosciamo skyway invest group e fantastico ciao a tutti ciao renzo ok renzo è per la prima volta ok iniziamo quindi oggi parliamo di un'opportunità che capita una volta in cento anni di cosa parliamo di cosa parliamo intanto vediamo qual è stato il passato e qual è il presente tutti noi conosciamo edison no e la sua invenzione ha cambiato la nostra realtà ha cambiato il nostro diciamo ha cambiato il nostro modo di vivere che che noi oggi utilizziamo grazie a lui grazie alla sua invenzione la nostra vita non è più come tantissimi centinaia di anni fa e oggi abbiamo anche altre invenzioni che cambiano la nostra vita qui vedete anche steve jobs steve jobs ha creato un piccolo telefonino in un smartphone noi possiamo avere tutte le funzioni che abbiamo bisogno e sono la fotocamera mandare mail mandare messaggi e sono e fa a parte questo tantissime funzioni a parte il telefonino a parte i messaggi e tutti voi sapete conoscete già solo qualche anno fa decine di anni fa questo è stato impossibile quindi nessuno ha immaginato di poter portare un telefonino in tasca e i telefoni erano con i fili che non potevamo andare fuori a girare con questi telefoni e poi come sono cambiati anche il anche il sistema di vedere i soldi oggi soldi anche un'entità elettronica ognuno di voi in tasca ha una carta di credito dove ci sono soldi potete pagare con questi soldi e non portare sempre il cash giusto e quindi quale sarebbe il futuro il futuro prima di parlare questo vediamo quale sono le problematiche o in giorno d'oggi ognuno di voi conosce la situazione nella propria città e la situazione è veramente del trasporto dello smog del traffico è veramente è un problema molto grande e ognuno di voi ogni giorno vive tutti questi problemi però il mondo cerca le soluzioni e siamo in ricerca di qualcosa di alternativo ragazzi e ora adesso vediamo quale sono queste aziende che offrono delle soluzioni alternative a le macchine e i semplici treni che i treni classici che oggi noi abbiamo anch'io viaggio spesso e spesso vorrei cambiare il mezzo di trasporto come aereo che comunque per adesso è unica soluzione per spostarci velocemente nelle grandi distanze allora c'è skyway che è una società che rappresenta una gamma di soluzioni per i sistemi di trasporto poi abbiamo taxi drone abbiamo hyperloop che è una società che fa molto marketing e quindi le informazioni aggirano tanto su questa su questa tecnologia e poi abbiamo sky train tutte queste tecnologie sono tecnologie innovative solo che noi abbiamo siamo stati a settembre siamo stati nella fiera più grande al mondo che si chiama inno trans e nessuna di questi diciamo tra queste aziende c'è stata solo un'azienda che si chiama skyway e questa tecnologia è stata inventata da anatoly junitsky è un scienziato bel russo che ha avuto tantissimi premi certificati in per la sua invenzione per esempio facciamo molta attenzione a premio al premio che si chiama golden chariot che questo premio ha è come se fosse un premio nobel nel settore di trasporto se voi visitate il suo sito www.junitsky.com potrete vedere anche altri riconoscimenti premi certificati brevetti patenti e tutto quello che riguarda la sua tecnologia questa tecnologia non avrebbe oggi il futuro se non una persona che si chiama andrei chavrato lui è direttore di skyway invest group autore fondatore dell'accademia di investitore privato investitore professionale che è specializzato in diversi diciamo è un investitore multidisciplinare che investe in tutti i settori dell'economia che solo possono esistere è un leader di multilevel marketing è una persona che ha molta esperienza nel settore di multilevel marketing è anche coach e business trainer di sviluppo finanziario degli investimenti e master realizzazioni dei sogni e si chiama così perché ha aiutato a realizzare i sogni di tantissime persone e cosa hanno fatto hanno fatto nel 2014 hanno creato una partnership dove hanno uniti unito due progetti due progetti che da parte di Andrei Kavratov e la sua accademia di investitore privato che lui ha avuto dal 2011 dove lui insegna educazione finanziaria alle persone e Anatoly Junitsky che è il creatore e ideatore della tecnologia skyway quindi unendo questi due progetti accademia di investitore privato e Skyway nasce la società Skyway Invest Group e cosa offre Skyway Invest Group? noi abbiamo creato dei pacchetti dei pacchetti di educazione finanziaria e grazie a questi pacchetti noi sosteniamo la tecnologia Skyway e trasferiamo il 60% di tutto quello che noi ricaviamo con i nostri pacchetti alla realizzazione della tecnologia quindi questi soldi vanno per la realizzazione del parco in Belorussia e adesso anche negli Emirati Arabi perché lì sarà realizzata la tecnologia alta velocità quindi dopo la creazione e certificazione di questi sistemi di trasporto giustamente tutte le persone che fanno parte della società Skyway Invest Group avranno i propri vantaggi perché? perché a loro viene regalato un bonus di quote della tecnologia Skyway grazie alla collaborazione tra Andrei Kavratov e Anatoly Junitsky ci sono 15 tappe di sviluppo del progetto Skyway in realtà questo progetto è partito nel 1978 potete immaginare quanti anni ha questo progetto e questa invenzione giustamente dal 1978 fino al 2014 sono passati tantissimi anni e questi anni Anatoly Junitsky cercava le soluzioni cercava le persone che possono dare il supporto alla sua tecnologia che possono dare il sostegno e lui continuava a lavorare e migliorare il proprio progetto nel 2014 abbiamo fatto la progettazione e abbiamo creato il progetto del parco in Belorussia e abbiamo iniziato anche la collaborazione vedete 2014 è stato l'anno molto importante per lo sviluppo di questa tecnologia e oggi noi abbiamo fatto anche il compleanno non oggi, un paio di settimane fa abbiamo fatto il compleanno della nostra collaborazione tra Skyway in this group e Skyway e il progetto Skyway quindi nel 2014 abbiamo messo la prima pietra nel ecotecnoparco potete immaginare nel 2015 non esisteva niente di quello che voi poi dopo potrete vedere nei video e quindi solo in tre anni quindi praticamente solo in tre anni abbiamo realizzato un qualcosa che era impossibile che nessuno credeva che in così pochi anni si può realizzare un progetto così grande e le tecnologie così anche diverse strutturate perché Anatolio Junitsky in giorno d'oggi ha creato veramente tantissime tecnologie e sta lavorando su diverse industrie che hanno un valore da trilioni di dollari nel 2016 abbiamo dimostrato nel 2016 è stata pure la dimostrazione che nel 2016 abbiamo dimostrato che la nostra tecnologia funziona abbiamo presentato il nostro Unibike per la prima volta nella fiera più importante al mondo Innotrans in Germania dove sono stati presenti migliaia di aziende al mondo che lavorano nel settore di trasporto nel 2017 abbiamo presentato abbiamo fatto il nostro primo EcoFest dove ci sono stati 7.000 persone da tutto il mondo a vedere la tecnologia come funziona e 2017 è stato anche l'anno importante perché in questo anno abbiamo certificato tre di nostri mezzi di trasporto e dal 2017 e anche dal 2018 iniziano i progetti locali quindi noi stiamo lavorando per sviluppare i progetti locali e siamo alla dodicesima tappa quindi siamo già quasi alla conclusione siamo quasi alla chiusura dell'ingresso in questa fantastica azienda quelle che abbiamo creato potrete vedere anche su YouTube che ci sono tantissimi video vi consiglio di visitare il canale ufficiale di Skyway Invest Group su YouTube qui potete vedere anche la fabbrica che oggi noi abbiamo anche delle fabbriche e tutti questi macchinari che è tutta la produzione di Unibus e Unibike e di altre tecnologie che sta sviluppando Anatole Junitsky in realtà come detto abbiamo creato una gamma di tecnologie e stiamo parlando di Unibike Unibus Unibike che raggiunge 150 km orari e ha due posti Unibus pure 150 km orari e ci sono 14 posti poi ci sono Unibus da 28 posti e anche a 36 posti poi abbiamo una linea leggera che si chiama UniWind che è una novità dell'anno 2018 che è stata presentata nell'Ecofest del 2018 anche questa tecnologia è di due posti e ha una particolarità che costa veramente poco e può essere utilizzata nei tratti brevi poi abbiamo anche il sistema di trasporto merci sistema Unicar il sistema alta velocità il nostro gioiellino che è stato presentato nella fiera in Germania a Innotrans proprio a settembre di questo anno poi abbiamo la macchinetta anche questa è un'industria un altro mercato di cui noi facciamo parte e questa macchinetta è per gli invalidi Anatole Junitsky è una persona che ha veramente un grande cuore e ha creato questa macchinetta veramente con amore e pensando alle persone che non hanno diciamo tutte le possibilità che abbiamo noi e poi parliamo anche di Eco House per esempio qui voi vedete il progetto delle case che è stato creato proprio in Belorussia e ci sono tantissime persone che hanno visitato già questa casa e hanno visto diciamo che è veramente una casa molto bella e può costare anche molto poco e aspettiamo anche le notizie su questo progetto perché molto probabilmente questo progetto sarà presentato all'EcoFace del 2019 vi aspettiamo nell'EcoFest a venire poi abbiamo creato anche un ponte questa è anche invenzione di Anatole Junitsky che è pure una tecnologia di creazione dei ponti per i pedoni anche per le macchine che hanno delle particolarità che sono molto resistenti e anche molto che costano poco Anatole Junitsky ha creato anche i droni questa specie di elicottero che qui potete vedere in realtà per adesso è un modello il modello di Skyway sarà diverso qui abbiamo utilizzato un elicottero già esistente per fare diversi test questa è un'altra tecnologia che è impressionante e ha un mercato molto grande e questo elicottero questo drone perché può volare senza pilota può portare fino a una tonnellata e mezzo di carico può arrivare a 170 km orari e può camminare diciamo senza ricaricare circa 200 km in realtà questa tecnologia e questo gioiellino è stato pensato proprio per creare le linee Skyway in modo molto veloce che a parte questo comunque potrà avere anche altre diciamo possibilità di utilizzare in diversi mercati anche in agricoltura per esempio anche per raggiungere i posti di alta radiazione eccetera eccetera e quindi e poi nell'ecotecnoparco abbiamo anche diciamo una specie di orto di mele dove ci sono che hanno impiantato i nostri diciamo i nostri clienti clienti di Skyway Invest Group e Anatoly Junitsky qui utilizza una specie di terriccio che è pure molto particolare che si chiama gumus e anche questa è un'altra sua invenzione quindi Anatoly Junitsky se avete capito è un scienziato che vuole cambiare il mondo vuole far diventare più verde e più ecologico ci sono in giorno d'oggi 300.000 cotitolari di questa società in 200 paesi e territori nel mondo quindi impressionante questo questo progetto in realtà non sarebbe realizzato se non la fiducia delle persone se non creazione di questo gruppo e questa squadra di persone che hanno un'unica missione insieme ad Anatoly Junitsky e questa missione è veramente bellissima adesso vediamo il nostro video della tecnologia che è stata già realizzata vediamo un secondo un secondo un secondo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.